Un nuovo ricovero all'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa, un uomo di 71 anni che qualche ora prima si era presentato al pronto soccorso all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Una volta effettuato il tampone, l'uomo è risultato positivo e, dato le sue condizioni, è stato subito trasferito a Ragusa. Sono 7 al momento i nuovi casi da Covid in provincia, a parte il 71enne, gli altri 6 sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Sono stati stabiliti 14 posti letto per la terapia intensiva all'ospedale Maria Paterno Arezzo. Sono stati stabiliti nella nuova predisposizione di assistenza ospedaliera per l'emergenza Covid dall'assessorato alla salute della Regione Sicilia. La decisione è stata presa il 10 settembre, in seguito alla riunione Volta, a pianificare la rete dell'offerta assistenziale nell'attuale fase pandemica, che vede nuovamente un incremento di contagi. Pertanto è stata disposta all'individuazione di vari posti letto nei vari territori della Regione. Ma sorge un'ulteriore preoccupazione per l'assessore Razza, venendo a conoscenza dei focolai che si stanno registrando in alcune carceri siciliane. Ha stabilito dunque uno screening su agenti polizia penitenziaria. A farsi da portavoce pure il prof Pomara ordinario di medicina legale all'Università di Catania. Bisogna sempre tenere alto il livello di attenzione, ma con consapevolezza che oggi è cambiata la capacità di intercettare in tempo quasi reale i contagi. Oggi, rispetto allo scorso periodo, possiamo attuare meglio tutte e tre le misure.